Penso che nel complesso la vittoria sia stata meritata, è chiaro che questo college ha preso un po' la sprovvista perché pensavamo che battessero il calcio d'angolo e la mettessero dentro, invece hanno fatto un grande schema che tra virgolette gli è riuscito bene. A me e Nicola Sibiola ci hanno fatto un blocco, però è chiaro che potevamo e dovevamo stare sicuramente più attenti, però ci hanno preso la sprovvista. Poi siamo stati bravi a reagire, sull'1-1 Armenteros e Coda la potevamo chiudere tranquillamente perché comunque poi ci siamo messi bene in campo, abbiamo cominciato a far gestire bene la palla e quindi penso che comunque la vittoria sia ampiamente meritata. Penso che comunque sono le mie caratteristiche principali quelle di recuperare palla e di andare verso la porta, di gestire in maniera pulita le situazioni di gioco e tra virgolette mettermi in mezzo al campo e dare un contributo importante alla squadra. Oggi è andato bene con Nicola Sibiola, comunque ci conosciamo, questo è il terzo anno che giochiamo insieme, quindi gli allenamenti sono tanti, ci conosciamo bene, insomma stiamo facendo bene. Comunque è un campionato difficile, è chiaro che mancano ancora sette partite e tra virgolette abbiamo buttati un po' di punti che purtroppo il passato è passato, però dobbiamo guardare sicuramente avanti e già partire dalla partita di Perugia che sarà sicuramente un'altra battaglia. È un campionato difficile dove puoi vincere con la prima e poi perdere con l'ultima in classifica, questo è un campionato che devi stare sempre sul pezzo ma non solo la domenica, secondo me quello che fa la differenza in una grande squadra, in un grande gruppo è la quotidianità che ti porta poi a giocare partite importanti. Questa è stata comunque una partita sulla carta facile ma a mio avviso è stata una partita non scontata, quindi abbiamo fatto questi tre punti, li mettiamo subito via e pensiamo a Perugia. È chiaro che quando giochi 90 minuti riacquisti sia fiducia in te stesso ma soprattutto sono un giocatore che dà le caratteristiche che quando cominci a avere i minuti nelle gambe le giocate ma soprattutto di testa, le giocate quelle stop e passaggio semplici, quelle imbucate ti vengono più facili perché hai minuti nelle gambe, hai pressione della partita, del risultato. Quindi comunque più giochi e più acquisti fiducia in te stesso. L'avevamo preparata tra virgolette diversamente perché pensavamo comunque giocavano 4-4-1-1 come giocavano. Poi si sono messi 3-4-1-1 e quindi comunque lì per lì ci siamo cominciati a parlare, ci siamo confrontati e ci siamo messi diciamo non a tre ma a due con Cristian Maggio che ruotava diversamente più avanti e quindi ci schiacciavamo in due in mezzo al campo. Quindi comunque sono tutte letture di gioco che vanno lette sul momento. I campionati sono tutti diversi, quello che è importante è avere la giusta armonia e il giusto equilibrio perché sono due mesi aprile e maggio due mesi intensi, sette partite e vanno gestite soprattutto a livello mentale. Quindi se facciamo il passo indietro e guardiamo il campionato di Serie B dove comunque è andata bene e abbiamo vinto, io mi ricordo che ad aprile eravamo veramente in una fase critica dove perdemmo, se non mi sbaglio, 4-1 a Cesena. Lì eravamo morti, schiantati eppure da lì ci fu la rinascita dove ci siamo proiettati l'ultima giornata contro il Frosinone per andare a playoff e da lì è andata come è andata. Questo ripeto, sono sette partite, una più importante dell'altra e le dobbiamo gestire a livello di equilibrio, un certo equilibrio. Trovando squadre chiuse come la Cremonese, come Livorno a volte, poi comunque Livorno è stata una partita a parte, però ecco a Cremona lo stesso Lascoli che si è difesa bene ha trovato due gol sul calcio piazzato. Questa è comunque, il Carpi era una squadra che girava palla da dietro e poi cercava subito la verticalazione in avanti con Arrighini e l'altro attaccante. Sapevamo che giocavano così, dovevamo giocare sulle seconde palle, mettere a terra la palla e con la qualità che abbiamo lì davanti con Coda, Ricci e Armenteros sapevamo che comunque tra le linee gli potevamo far male e il primo gol così è stato. Penso che comunque queste tre partite ci diranno di che pasta siamo fatti, ripeto, dobbiamo andare a Perugia e fare la nostra partita, la dobbiamo preparare in modo perfetta e quindi ci aspetta sicuramente una grande squadra di qualità perché loro fanno la miglior arte, il palleggio, quindi ci aspetta una partita difficile. È chiaro che le altre due vanno gestite in maniera diversa ma pensiamo partita dopo partita penso che comunque abbiamo tutte le qualità per andare avanti, per portare avanti questa filosofia di gioco, questo spirito di gruppo che abbiamo fin dall'inizio. è chiaro che abbiamo avuto i alti e bassi ma fa parte comunque del percorso, siamo una grande squadra, a livello organico siamo forti quindi dobbiamo stare soltanto sereni e pensare a lavorare.